in questa puntata veloce vedremo quali sono i migliori film comici degli ultimi anni voluto inserire dei film che non siano troppo demenziali come i vari natale a rio natale in india e altri filmacci pari come i rischi e i movi anche siano commedie con trame decenti vedremo una carrellata quindi di film soprattutto degli ultimi anni commedie degli ultimi anni più un console nel nostro modo di vedere la comicità ho inserito uno massimo due film per ogni attore o regista bene questi sono i film comici quelli che ho molto voluto di vedere se ne ce n'è qualcun altro potete aggiungerlo nei commenti ovviamente vi sono anche altri film anche degli stessi autori come Benigni o Ben Stiller e tanti altri che poi Jim Carrey che hanno fatto altri film comici che non ho inserito per bilanciare i vari film di tutti quanti ecco la lista dei film 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 Ci vediamo alla prossima Ci vediamo alla prossima